Test rapidi anti-covid per chi entra in Sardegna, provincia d'Oristano al via le vaccinazioni per gli over 80, medici di base banditi concorsi, pesca abusiva sanzionati 4 pescatori. A voi telespettatori ben ritrovati, sono 81 i nuovi casi in Sardegna oggi. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 3,1%. I guariti oggi sono 82, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 190. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano 5 casi. A Oristano città fermi i contagi e le guarigioni. Dalla prossima settimana iniziamo a tastare chi entra in Sardegna. Lo ha annunciato il Presidente della Regione, Cristian Solinas. Tutti i dettagli nel servizio. La Giunta regionale prova a contrastare la diffusione del coronavirus con regole ferree. Dunque, da lunedì 8 marzo, test rapidi per chi pone piede nell'isola. Per difendere la salute pubblica chiederemo qualche minuto a chi sbarca per sottoporsi a un test rapido. Se il risultato è negativo, si accede tranquillamente. In caso di positività scattano i protocolli previsti, ha affermato il Presidente Cristian Solinas. L'isola, l'estate scorsa, ha pagato un prezzo pesantissimo. C'è stato riportato il virus sull'isola. Ecco perché il vero tema adesso saranno i controlli da un lato e il senso civico delle persone dall'altro. Abbiamo adottato un'ordinanza specifica che prevede l'impiego di personale regionale per effettuare test antigenici o tamponi alle persone in arrivo nei prossimi giorni, sia nei porti che in aeroporti, ha aggiunto Solinas. Sono benvenuti i turisti quindi nella prima regione bianca d'Italia, ma chiediamo solo nel loro interesse di giungere con un test già eseguito o qualora non lo avessero di dedicarci qualche minuto all'arrivo per eseguirlo. Vaccinazioni Covid per gli over 80 al via in provincia d'Uristano. Sentiamo precisamente in quali comuni. Martedì 9 marzo prenderanno il via in provincia d'Uristano le vaccinazioni anti-Covid dei cittadini con 80 o più anni di età. I comuni inizialmente coinvolti saranno quelli di Uristano, Bauladu, Milis, San Verominis, Tramazze e Zediani. Si procederà successivamente secondo la disponibilità dei vaccini con i comuni che fanno riferimento ai diversi ambiti vaccinali della provincia. In ciascuno dei comuni indicati sarà allestito un punto di vaccinazione mobile, fanno sapere dalla ASL, nei locali opportunamente attrezzati messi a disposizione dalle giunte comunali, in cui gli operatori sanitari della ASL attraverso le cosiddette squadre volanti provvederanno a inoculare i vaccini. Per quanto riguarda Uristano, le dosi saranno inoculate nel poliambulatorio di via Pira. In questa fase i cittadini che rientrano nel target degli over 80 saranno convocati dal personale del comune di residenza, nel giorno, nella sede e nell'orario indicato. Sarà necessario portare con sé il modulo di consenso informato, debitamente compilato, che sarà reso disponibile sia presso i comuni interessati sia sul sito internet www.asloristano.it. Per la loro compilazione, nel caso fosse necessario, i civili potranno chiedere la collaborazione degli assistenti sociali del comune oppure, per informazioni, chiedere la consulenza del proprio medico di base. Le persone che non potessero raggiungere i punti di vaccinazione per comprovati motivi di salute saranno vaccinate a domicilio dagli stessi operatori del servizio di igiene e sanità pubblica. Nel comune di Uristano la vaccinazione degli ultraottenteni avrà inizio martedì 9 marzo e proseguirà fino ad esaurimento dei cittadini che rientrano nel target. In ciascuno degli altri centri indicati, invece, l'operazione sarà concentrata di regola in una o due giornate, secondo la quantità di persone che dovranno essere immunizzate. Ancora sanità, medici di famiglia banditi concorsi per coprire 22 sedi carenti in provincia di Uristano. Vediamo. Un passaggio fondamentale per riavviare il processo di copertura dei posti rimasti privi di assistenza sanitaria di base è stato pubblicato sul Buras del 25 febbraio l'elenco degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria per l'anno 2018 con il relativo bando rivolto ai medici interessati a ricoprire gli incarichi a tempo indeterminato nelle sedi vacanti dell'isola. Per l'Aseo di Uristano gli incarichi da assegnare sono 12 nel distretto di Uristano, 5 in quello di Ghilarzabosa e sempre 5 in quello di Alesterralba per un totale di 22. Questo processo dovrà incontrare l'interesse dei medici, ha affermato il commissario straordinario dell'Aseo di Uristano, Antonio Cossu, ma ospichiamo che si riesca gradualmente a colmare le lacune sul territorio, in particolare nelle zone più disagiate. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di accompagnamento alla nascita che avrà inizio mercoledì 10 marzo alle ore 9 al consultorio Famiglia di Ghilarza, rivolto alle mamme che avranno un figlio, ad aprile 2021 l'evento prevede due C-incontri in presenza che si svolgeranno nei locali del consultorio con la massima attenzione al rispetto delle disposizioni anti-Covid. Cambiamo argomento, 300 ricci di mare e 6 kg di pesce di varie specie sono stati sequestrati dagli agenti dell'unità navale della forestale di Uristano durante servizi di vigilanza lungo le coste per contrastare la pesca illegale. Vediamo. La pesca illegale è più diffusa di quando normalmente si pensa ed è per questo che gli uomini del corpo forestale tra le tante attività si occupano di contrastarla, vigilando sulle coste a che tutto sia realizzato secondo le norme legislative attuali. Proprio nei giorni scorsi il personale dell'unità navale del corpo forestale di Uristano ha proceduto ad eseguire diversi sequestri amministrativi per un totale di circa 6 kg di pesce misto e di circa 300 ricci. Le violazioni accertate in momenti differenti sono state contestate in un caso a due pescatori professionali che stavano esercitando la pesca subacquea con l'uso del fucile, in un altro a due pescatori abusivi che operavano nelle acque della marina di Arbus in località Pistis e Porto Palma. Quest'ultima zona è interdetta alla pesca poiché è ricadente nella macro area 5A individuata tra quelle in cui vige il divieto assoluto di pesca del riccio di mare istituiti essensi del decreto del 25 novembre 2020 dell'assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale interdette al prelievo del riccio per un periodo di tre anni al fine di favorire il recupero e la ristrutturazione dei popolamenti. I ricci sono stati sottoposti a sequestro e successivamente liberati nel mare circostante in quanto ancora vitali come dispone la normativa, mentre il pescatto è stato devoluto in beneficenza all'essore della Messa della Carità di Oristano. I pescatori professionali trovati in possesso di fucile di specifica attrezzatura da pesca ad uso professionale dovranno pagare una sanzione amministrativa da 1000 euro ciascuno per aver esercitato la pesca subacquea marittima in tempo vietato dal tramonto al sorgere del sole. Mentre per quel che riguarda i pescatori abusivi trovati in possesso anche di fonti luminose uno dovrà pagare una sanzione amministrativa da 3000 euro per aver esercitato la pesca subacquea marittima in tempo vietato e in zona vietato e l'altro dovrà pagare una sanzione amministrativa da 1000 euro per aver esercitato la pesca dei ricci di mare non essendo pescatore professionale. Ricordiamo, ha affermato Maria Tiziana Pinna, direttore del Servizio Territoriale della Forestale che il calendario della pesca dei ricci di mare ha previsto l'apertura della pesca professionale il 16 novembre e la chiusura il 17 aprile con orario di pesca dalle 6 alle 14 e con esclusione della domenica. Anche per la corrente stagione la pesca dei ricci è riservata ai soli pescatori professionisti e dunque vige il divieto assoluto di pesca per i pescatori sportivi e ricreativi. Campania Amica conquista sempre più la fiducia dei clienti sardi. Secondo i dati diffusi da Coldiretti Sardegna negli ultimi tre anni il numero di acquirenti che fanno la spesa nei mercatini di Campania Amica è cresciuto del 16,1%. Un aumento degli afflussi che ha fatto crescere anche il peso dello scontrino medio salito del 26%. Risultati di tutto rispetto per la rete di vendita di Coldiretti. Natta nel 2008 è ora diventata la più estesa del mondo sotto un unico marchio. E ora sentiamo una nota di Paolo De Zogus sul governo Draghi. Vediamo. Una lezione di stile quella che il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla comunicazione ufficiale del decreto ha fatto intervenire i ministri interessati evitando di farlo direttamente come ormai ci aveva abituato il Presidente precedente Giuseppe Conte. L'ex Presidente del Consiglio era infatti ad uso a intervenire in prima persona per illustrare i contenuti dei decreti, un metodo più volte criticato dall'opposizione che chiedeva di portare i provvedimenti all'attenzione del Parlamento. Per tutto il 2020 e parte del 2021 si è andati avanti con questo stile che valso a rafforzare la notorietà di Giuseppe Conte al punto che nei sondaggi odierni come probabile capo politico dei 5 Stelle risulta essere appena al di sotto della Lega e sopra il Partito Democratico al quale strato facendo si presume sottrarrà una fetta consistente di consensi divenendo arbitro nella sponda del centro-sinistra. Voltiamo pagina. Nuove esercitazioni militari aeree del tiro a fuoco nel poligono di Capofrasca partiranno venerdì 5 marzo. Vediamo. Nuove esercitazioni militari con epicentro alla base e il poligono di Capofrasca che dopo un timido tentativo di smantellamento mai portato a conclusione ha ripreso la sua attività a pieno ritmo. La nuova tornata di esercitazioni va sotto il suggestivo nome di Nuovo Tango 812 e si può dire che al suono delle bombe che centrano gli obiettivi balleranno i pescatori della Valle di Marcedì. Questo sino al prossimo 2 aprile con esercitazioni che si svolgeranno dalle 7.30 alle 17.30 con ben 10 ore di simulazioni che metteranno alla prova le strumentazioni della base oggetto di continue revisioni e aggiornamenti proprio a seguito delle attività che vi vengono svolte. L'ordinanza diffusa dalla Capitaneria di Porto di Oristano ripete le disposizioni del passato con il divieto di navigazione, sosta e di tutte le attività connesse con quelli che vengono definiti gli usi pubblici del mare quindi quelle della pesca e la navigazione. Di fatto si tratta di limitazioni penalizzanti per le attività che si svolgono a mare e nelle due borgate di Marcedì e Sant'Antonio di Sant'Adi. E ora ci spostiamo a Cavras al via i lavori di elettrificazione a Mariermi e Maimoni. Vediamo. Oggi sono iniziati i lavori di elettrificazione delle aree costiere di Maimoni e di Mariermi a supporto dei servizi dei due litorali e con un importante cambio di passo per la loro fruizione. Si tratta di un intervento che porta con sé un'ampia scia positiva per il futuro della zona costiera in quanto si lega alla qualità dell'offerta turistica che Cavras sarà capace di garantire già dalla prossima stagione estiva assicurando un significativo incremento di servizi. L'intervento condotto da Enel è stato reso possibile grazie a un finanziamento assegnato nel 2017 all'area marina protetta Penisola del Sinis Isola di Maldiventre di 850 mila euro per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica. Il progetto di elettrificazione per le due località prevede la stesura di circa 4 chilometri di cavi la costruzione delle cabine di trasformazione e l'allaccio finale in bassa tensione. Si tratta di un intervento atteso da sempre che ha avuto necessità di una programmazione attenta e ha previsto anche la sdemanalizzazione di alcuni tratti di strada vicinali che sono stati ceduti in vendita a Enel per il posizionamento delle cabine di trasformazione ha affermato il sindaco Andrea Abis. Le piogge incessanti dello scorso autunno e inverno hanno bloccato il cantiere per più di tre mesi adesso finalmente si potrà procedere fino alla chiusura dei lavori che secondo il cronoprogramma saranno completati entro tre mesi. Oristano festeggia una nuova centenaria e Silvia Yolanda Salis che oggi ha compiuto il suo primo secolo di vita nella sua casa di piazza Ungheria a festeggiarla insieme alla figlia Paola al genero, ai nipoti e ai amici anche il vice sindaco Massimiliano Sanna che le ha donato una targa di auguri a nome della città. Voltiamo pagina Il suo nome è Glicci Prima cane allerta diabete della Sardegna Sabato 6 marzo riceverà il diploma dopo due anni di addestramento Vediamo Il suo nome è Glicci Si tratta del primo cane allerta diabete della Sardegna Sabato 6 marzo alle ore 12 nella sala consigliare del comune di Oristano le sarà consegnato il diploma che attesta questa sua particolare abilità Il diploma giunge al termine di quasi due anni di addestramento del barboncino di proprietà della famiglia Boy a cura di Roberto Zampieri nell'ambito del progetto Serena Onlus Alla cerimonia trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del comune parteciperanno il sindaco Andrea Luzzo l'assessore all'ambiente Gianfranco Liccheri il presidente della commissione ambiente Lorenzo Pugeddu la famiglia Boy un rappresentante dell'associazione Onlus Serena e in collegamento da Verona l'educatore cinofilo Roberto Zampieri A raccontare la bella storia di Glicci saranno i suoi proprietari Daniela, Angelo e il piccolo Silvio un bambino di 13 anni che soffre di diabete di tipo 1 E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione e ora vi lascio alle notizie nazionali buon procedimento con i nostri programmi grazie a tutti Grazie a tutti All' hunch Grazie a tutti Grazie a tutti.